Dopo Marsiglia, Londra e Parigi, nuovo riconoscimento internazionale per l'artista avellinese si intitola Calafiatura di Catena ed è un omaggio alla sua terra. Il dipinto è in esposizione presso le sale della Espesar Gallery di Bruxelles, rappresenta donne che vendemmiano sulle note dei fuochi pirotecnici di Monte Falcione. A selezionare l'opera per la partecipazione al premio artista dell'anno 2022 è stata a Leonardo Zappulla, critica storica dell'arte, curatrice dell'evento per la Fondazione Effetto Arte. Calafiatura è un termine dialettale che indica il rimontaggio del mosto, le vinacce galleggianti tornano a immergersi e il vino assume la sua essenza. Nel dipinto si scorgono ancora grappoli di Irpinia e un sughero cantine Catena, l'azienda vitivinicola di famiglia, come a significare un brindisi alla vita che è scaturito dagli affetti più cari. Marie non smette di incuriosire artisti appassionati da tutto il mondo che numerosi in questi giorni affollano le sale della mostra e assistono alle videoesposizioni. In vista ci sono nuovi traguardi per Antonella Genzale. Alcune delle sue opere sono state selezionate per il premio internazionale Fiera Mosca di Barletta e un tour negli Stati Uniti, Miami, New York, Los Angeles e Washington. La creatività di Marie è pronta a sbarcare oltreoceano per sottoporsi a nuovi giudizi. Dei quadri di Marie daranno prossimamente responso prestigiosi ai cataloghi internazionali d'arte sia attraverso recensioni che con la pubblicazione delle valutazioni economiche. Marie, impressionista delle emozioni, potrebbe stupire ancora una volta.